Allora, una concorrente che c'è stata anche alla tappa di Roma precedente, Raffaella Rocconi, Raffi, ha 16 anni, viene da Roma e studia il secondo anno della scuola professionale chimico-biologico, wow, come diventa una biologa? No, odio sia la chimica che la biologia. Ah, più chimica che biologia? No, li odio tutti e due, è lo stesso livello di odio. Ah, li odi tutti e due, perché vai in questa scuola? Eh, non lo so. Oddio ragazzi, abbiamo un caramba che sono... Scusa, ti hanno costretto i miei genitori? No, no, perché a 13 anni mi piaceva, poi so cambiare. Ah, vabbè, e il tuo sogno nel cassetto è diventare una cantante? Sì. Quindi vabbè, va benissimo, una cantante chimica, la biologia, è perfetto. Mentre faccio le analisi, canto. Esatto, mentre scopri la cura, che ne so, una cura fantastica, fai pure la cantante, pensa quanto può andare, wow, questo è marketing ragazzi, cioè diventi una biologa e poi fai uscire il disco. Ah, si chiama con me la cura con vent'altro. Bravo, esatto, mamma mia, wow, grande ragazzi, mi piace, mi piace, allora cosa ci canti oggi? Ma che freddo fa. Ma che freddo fa, che bello, allora ragazzi pronti, giurati? Mi raccomando, ascoltate bene, Francesco col telefono, anche l'altra volta stavi al telefono, niente, vai Raffaella, prego di lasciare il palco. Ti perdo il sole stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte ha detto il sole, con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza, una carezza, per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, che come foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è, se manchi tu? Sento una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che c'è spesso già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mi hai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non torna più. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, che come foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è, se manchi tu? Non mi ami più, che freddo fa. Che freddo fa. Che freddo fa. Grazie. Oh Dio, grandissima Raffa, bravissima. Perché tutto sto parla prima, non mi distrae. Ah scusa, perché ti ho distratto io? No, no, perché ti ho fatto così. Ti ho chiesto che bella maglietta, questa è una sciarpa ti ho detto. No, prima, prima, la chimica e la biologia mi l'aveva detto. Ah scusami, è vero, l'altra volta mi aveva detto non mi parlare, fammi subito cantare perché mi agito. Ma sei stata bravissima, Raffa, che cosa dici? Chiediamo per favore, ah Francesca, che cosa pensi di Raffaella? Bravissima, bravissima, veramente, hai una voce strepitosa. E poi sei stata brava a riprenderti. Brava. Brava. Io non l'ho sentito, hai fatto... Sì, ho fatto un po' prima, ma vabbè, cambi da tutti, pura tiziano ferro al concerto. Ma il pubblico, io non me ne sono accorta, guarda, il pubblico che ti ascolta non se ne accorgi. Tu era veramente, a meno che, ah perché fai una svirgola, una cosa così e non se ne accorgi. Ma figura, di andare avanti, ma va benissimo, tranquilla, bravissima. Scherzo nel tempo, era una cosa programmata. Programmata? Eh certo, io resti di adesso. Brava, così ti voglio, Raffaella. Allora prego, Raffaella, puoi andare, Vito, accompagnala dietro le guinte. Allora prego, Raffaella.